idrofoglia la produzione è suddivisa su tre tipologie di prodotto sono appunto macchine per irrigazione quindi macchine semoventi sono dei gruppi motopompa e sono delle macchine combinate tra gruppo elettrogeno ed elettropompe sono macchine che ormai possono lavorare gestite anche da remoto quindi ormai diciamo anche l'agricoltore moderno è meno presente sul campo ma riesce a gestire le sue macchine anche stando comodamente a casa come ormai si gestiscono molte altre cose viene tutto progettato prodotto e commercializzato internamente quindi copriamo il ciclo produttivo completo delle macchine quindi sia come idrofoglia come green power ad oggi il nostro export raggiunge circa l'ottanta per cento del nostro prodotto quindi diciamo abbiamo una forte spinta verso l'export soprattutto parliamo di paesi europei ed africani il progetto futuro è quello anche di gestire proprio questi tipi di irrigazione anche in base alle informazioni meteorologiche dire dove intervenire nella mappa del terreno dell'agricoltore grazie a tutti